buonasera cuori anzi buongiornissimissimo si sto registrando di sera ma non so se lo metterò online questa sera forse vedremo comunque cuori sono qui con voi e finalmente riesco a farvi vedere qualche creazione prima di portarla al mercatino che avrò domani poi di nuovo tornerò in pausa io vorrei farvi vedere subitissimo che ho personalizzato tutte le mie scatole in questa maniera che ne dite vi piace e olografico è tutto creato con la mia cricut e infatti io l'ho presa essenzialmente per personalizzare creare scatole e tutte cose personalizzate per il mercatino e ne fa tempo la uso anche per fare qualcosa di particolare che è come quello che ho fatto per natale che vi ho fatto vedere nel video di natale bene allora dopo avervi mostrato le scatole vorrei farvi vedere questa volta ho creato anche delle delle collane delle collane perché oltre ai fiori mi richiedono anche ci sono anche persone di una certa età come me che amano le collane così ho creato delle collane e penso che siano magnifiche più che altro cuore il materiale che ha usato come sapete io uso materiale di prima qualità infatti queste sono agate sfaccettate sfumate guardate che belle e queste sono per le barocche no ma dico io male vedete le sfumature guardate questa collana luminosissima splendente a un'altra cosa ve l'avevo mostrato che sempre con la mia cricut ho creato anche la mia firma da appendere alle creazioni comunque qui la calamita in queste collane che vedrete non ne ho fatte tante ne ho fatta qualcuna e ho usato sempre calamite perché sono troppo comode e poi sono molto molto forti quindi andiamo oltre ma c'è a me vedere questa luminosità mi mi fa impazzire allora un'altra collana con perle di agata sfumata e sfaccettata è questa sui toni dell'azzurro blu vedete queste sono da 10 mm e queste da otto e poi c'è l'alluminio sempre un filo che non si scurisce non si rovina silver plated e poi questa balon stupenda guardate guardate le sfumature no ma dico guardate le sfumature e la luminosità eccola qua poi ho creato due giro colli con perle che sono quelle che piacciono tanto e che vanno e che vanno sempre i classici classici la mia amica dice che sono per vecchi per me sono sono per le persone che amano il classico che amano qualcosa di di come dire fine delicato e queste sono le solite le solite le stupende perle di maiorca ho usato anche vedete dei cristalli e anche queste perle tutte sbarlucicose in marca site e sempre la chiusura calamita guardate anche questi che luminosità che sbrillucicoso e per finire le giro colli questo è un po più lunga questa sono sempre per le barocche di un'altra qualità rispetto le altre sempre comunque una qualità molto alta e anche le perle guardate la luminosità eccole qua eccole qua e adesso adesso vi faccio vedere cosa ho creato con con i fiori allora devo fare una premessa finalmente ho trovato la resina che fa per me che fa per me per i miei fiori perché è una resina di cui vi parlerò in un prossimo video perché l'ho già girato ma non ho avuto tempo di mettervelo online in cui vi parlo di questa resina che è della resi in plan e qui sopra vi metto anche il codice sconto se volete andare sul sito a vedere le resine che ci sono che sono spettacolari ma questa soprattutto finalmente ho trovato una resina che lavora bene coi fiori e soprattutto alifatica che non diventa che non si ingellirà mai super resistente anche contro i graffi le cadute cioè adesso vi faccio vedere e soprattutto cuori ma vedete come riesco a fare a contornare i fiori cioè io non ce ne ho mai fatto con questa cioè è una cosa lunga e ci vuole pazienza ci vogliono tantissimi passaggi davanti e dietro almeno due davanti e due dietro ma guardate come vengono cioè guardate la luminosità e vi assicuro che non viene un graffio che sia uno certo bisogna lasciar passare allora è sformabile è toccabile dopo due tre ore quindi bisogna lavorare velocemente bisogna trattarla in un certo modo ma è unica e questi orecchini sono in argento 925 con zirconi e quindi ecco ne vado molto orgogliosa di questo lavoro di questi lavori che ho fatto guardate tutti con i non ti scordi no che non ti scordare di me si va bene cuori sono la solita pasticciona sono le viole vero le violette guardate anche queste che carina ma guardate che carine quanto è luminosa e poi guarda il pensiero io faccio banchetti e sinceramente spesso sono sotto il sole ma poi uno anche quando l'indossa questi non diventeranno mai gialli non si rovineranno mai c'è uno li fa durare per sempre beh io boh ditemi anche voi cosa ne pensate ditemi perché veramente veramente ditemi cosa ne pensate andiamo avanti si vede che mi sono divertita guardate ho comperato tantissime viole tantissime viole le ho tutte seccate e mi mancavano tanto gli orecchini e le ho create di di ogni di ogni di ogni e la luminosità e guardate la rifinitura guardate non dico nulla guarda altro colore altre sfumature questi li ho fatti dorati gli ho rifiniti dorati guardate vabbè vabbè non serve che dica altro ha un'altra cosa avete visto anche questi sono creati da me tutto tutto ho fatto tutto io sì sono felice e sono orgogliosa del lavoro che ho fatto altre viole queste sono le ultime eccole qua non le tiro ma no le tiro fuori perché vi voglio far vedere anche allora intanto quello che vedete è questa plastichetta qua perché per il resto sono lucidissime e poi volevo farvi vedere anche questi questi con zirconi e anche questi qua ma sono poco carini me lo dico da sola sono nata fuori sono matta ma venite a trovarmi ai mercatini venite a trovarmi questa volta ho fatto anche le margherite guardate che belle ma quanto sono belle ma quanto sono belle ma quanto sono belle guardate va bene va bene e poi vi devo dire un'altra cosa stupenda cioè come vengono come vengono le orchidee con questa resina poi un'altra cosa che ho voluto fare alla adabilmente di settembre ho comprato questa catena in acciaio inox con tutti i cristalli ho deciso di usarla per le orchidee perché perché hanno una marcia ancora in più e guardate con questa resina giuro 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 che l'ho fatta con questa resina pian pianino ma si riesce benissimo 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 questa orchidea e poi ne ho fatta anche un'altra che è un po più piccola guardate guardate qui ma poi guardate la luminosità del tutto e la finezza la finezza bene cuori con questo sono riuscita a farvi vedere tutto e vi ringrazio ancora di seguirmi mi ricordo che questa è l'rp 6 3 630 e che la trovate sul sito della resi in plan ma vi lascio tutto sotto vi mando tanti tanti baci e vi prego sappiate mi dire cosa ne pensate lasciatemi sotto qualche commento so che la mia presenza io spero di riuscire ad essere più presente intanto vi mando un bacione enorme ciao cuori ciao 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 ciao